Preoccupa lo stato di salute del mare Ligure, ad affermarlo è Legambiente che come da consuetudine in questi giorni sta monitorando la qualità delle acque ed è emerso che in Liguria su 24 punti analizzati da Ponenta Levante, 16 e quindi oltre la metà hanno delle forti criticità. Nel mirino principalmente le foci di fiumi e canali, in tratti spesso molto frequentati dai bagnanti. Assenti in spiaggia, prosegue Legambiente le informazioni sulla qualità delle acque. Le criticità ci dicono che in questi 16 siti sono emersi dei valori microbiologici che ci indicano un inquinamento delle acque, una presenza di batteri intestinali e di escherichia coli nelle acque marini, alla foce prevalentemente di rii e torrenti e di canali che si affacciano sui nostri mari. Questo è un dato che ci deve indurre a tenere alta l'attenzione sul tema della depurazione delle acque che giungono a mare. In provincia della Spezia situazione molto critica. Su nove campionamenti eseguiti, sei sono risultati per così dire fuori legge. Giudizio di fortemente inquinato assegnati da Goletta Verde alla foce del canale della Venera Azzurra e alla foce del canale alla fine di Via Roma a Lerici, alla foce del torrente Parmignola a Marinella di Sarzana. Entrano i limiti il campionamento eseguito a Porto Venere presso Calatadoria. Inquinato è il giudizio invece per quello di Deiva Marina alla foce del rio Castagnola in località Fornaci. Nelle Cinque Terre giudizio di fortemente inquinato per il campionamento alla foce del canale di fronte Piazza Garibaldi a Monterosso e presso lo scarico sotto al Belvedere a Manorola nel comune di Rio Maggiore. Nello stesso comune entro i limiti gli inquinanti riscontrati nel campione prelevato alla spiaggia Fossola, così come quello prelevato a Vernazza alla foce del rio Corniglia. Nel resto della Liguria comunque non se la passano meglio e l'Egambiente lancia un appello alle istituzioni. Vuole essere un momento di riflessione anche per le amministrazioni, non un indice puntato, ma è necessario un costante monitoraggio e adeguare gli impianti di depurazione, gli impianti fognari, perché una regione evocata al turismo come la Liguria non può presentare dati di questo tipo. Il miglioramento delle nostre acque deve essere un strumento utilizzato anche per fare marketing territoriale. Questo è quello che noi chiediamo.